Fratelli coltelli, è ciò che si dice quando due fratelli si scanano per l'eredità, quando il genitore magari è ancora caldo sul letto. Ne ho viste tante nella mia vita di avvocato, soprattutto per quanto riguarda successioni sanguinose, in lotte fino alla fine, utilizzando tutti i mezzi possibili per distruggere l'altro. L'altro che magari ha lo stesso DNA. E' veramente incredibile. Allora io dico a molti genitori, innanzitutto di educare i figli a pensare che le questioni materiali non sono tutto, ma volendo entrare nel merito delle questioni materiali, attenzione alle donazioni che si fanno ai figli, all'uno piuttosto che a un altro, perché le donazioni sono un'anticipazione dell'eredità. Anche in tema di testamenti c'è molto da dire. La maggior parte delle volte si fanno testamenti olografi, cioè testamenti che vengono chiusi in un cassetto. Le caratteristiche del testamento olografo le conosciamo. L'autografia, cioè deve essere scritta di pugno dal testatore, la data e la firma, e quindi anche poi l'indicazione del beneficiario e degli oggetti che saranno appunto devoluti. Ma credo che il testamento olografo non sia certamente sicuro, perché spesso viene fatto sparire. Allora è meglio il testamento pubblico. Ma attenzione, quando si fanno i testamenti, chiedete una consulenza sempre al vostro notario di fiducia, a un avvocato, o cercate di non fare cose, quindi prendere delle decisioni, che possono determinare una guerra senza confine, tra fratelli, i cosiddetti fratelli coltelli.